Stanca? Stressata? Insoddisfatta? Un rimedio unico, potente, da dosare con cura. Non sei in grado di dirigere un'azienda, Valerio? Hai fatto sei mesi di agrare e guarda il risultato. Non ho più il controllo delle mie azioni, delle parole. Tu, che fai? Abbiamo scoperchiato il vaso di Pandora. Cambio tutto! Giovedì, in prima serata, una prima TV assoluta, Canale 5. Come valuta il nostro servizio?